Bene, direi che possiamo riavviare i lavori riprendendo da quello che abbiamo lasciato indietro, l'unica cosa che abbiamo lasciato indietro stamattina, che però per noi è un momento importante, è il momento delle premiazioni e non ho mai fatto nulla del genere per cui spero di uscirne vivo e di dare la giusta solennità al momento. Abbiamo due premiazioni, la prima è quella riservata al premio italiano per il migliore intervento di riqualificazione fluviale, prima edizione. Quarto convegno, prima edizione, ci abbiamo pensato 12 anni prima di istituirlo, perché l'idea del premio è quella di portare in giro per l'Italia, per l'Europa, dei progetti di eccellenza, dei progetti bandiera si dice, e credo che il momento giusto sia questo. Ci sono tanti ottimi progetti che però forse non sono ancora pronti, non hanno la storia, il monitoraggio, il coinvolgimento, tutti gli aspetti che noi riteniamo fondamentali per avere un progetto da spendere, da far voglia, da stimolo per essere imitato. Quindi l'idea del premio è annunciata a Reggio e concretizzata. Non è colpa mia, è proprio questa, di riuscire a mettere insieme alcune esperienze buone da spendere. Ringrazio il comitato dei valutatori che ha valutato i progetti e ha dato delle valutazioni non solo del CIRF ovviamente, ma anche con dei valutatori esterni, ha svolto un ottimo lavoro. Do il microfono per due parole introduttive a Laura prima e poi a Giancarlo, CIRF, ma qui parla con uno dei due soggetti che ha patrocinato assieme al Ministero dell'Ambiente il premio, cioè l'ECR, l'European Center for River Restoration. Grazie Bruno. C'è stato anche un rispetto dei tempi incredibile nella risposta da parte loro, quindi grazie a tutti loro. La seconda cosa che volevo dire è un ringraziamento alla LUS Italia che ci ha permesso e ci ha finanziato questo premio. Magari Bruno vuoi dire anche in cosa consiste il premio? Sì, a parte ovviamente le targhe, altri riconoscimenti proprio nell'ottica di quello che avevo detto prima, cioè di avere dei progetti da portare in giro e da pubblicizzare come esempi virtuosi. Il premio è un premio in denaro per i vincitori che però deve essere utilizzato per produrre prodotti divulgativi. Quindi la nostra speranza è una clip video che in pochi minuti riesca a dare un'idea molto comunicativa e molto immediata di una buona esperienza italiana di progetti di riqualificazione. Quindi c'è un premio in denaro per i vincitori funzionale a realizzare questo prodotto divulgativo. E quindi grazie appunto all'US Italia che creduto nel cambiamento che questi progetti e questa divulgazione di questi progetti può portare soprattutto in Italia e poi comunque anche in Europa. Sicuramente dobbiamo ringraziare i partecipanti che hanno investito il loro tempo. investire il loro tempo e zitta, così faccio prima. Va bene, comunque a tutti coloro che hanno creduto in questo nostro primo premio e quindi hanno investito il loro tempo per produrre il materiale che ci hanno fornito. Passo la parola quindi a Giancarlo come responsabile del Reelsiero. E a fare una cosa solenne? Possiamo fare. Allora, ovviamente mi unisco a tutte le considerazioni che sono state fatte e ai ringraziamenti. Aggiungo solo una riflessione. Un progetto di riqualificazione fluviale è di successo nel momento in cui tra le varie cose riesce a contaminare, non in senso inquinologico, ma in senso culturale, altri fiumi, altri territori, altre comunità a fare altrettanto. Quindi l'idea di premiare, per noi è in questo senso che viene interpretata, la presenza del CIRF europeo, perché RR è l'omologo del CIRF a livello europeo, interviene in questo senso. Ci sarà la massima disponibilità e collaborazione dai vari CIRF europei a dare visibilità ai progetti che sono risultati finalisti e vincitori del premio, auspicando che queste buone pratiche arrivino anche all'attenzione dei policy maker, proprio in questo momento in cui si sta rivedendo la direttiva e quindi serve fornire evidenza di buone pratiche e di nuove possibilità di gestione dei corsi d'acqua. Bene, procediamo. Primo progetto finalista, piano di gestione del basso corso del torrente Aurino, realizzato dall'Agenzia per la protezione civile della provincia autonoma di Bolzano. Chiamo a ritirare il premio Peter Hecker della provincia dell'Agenzia della protezione civile. Il progetto verrà presentato nei dettagli domani nella sessione 5, per chi sarà presente ovviamente. C'è anche il libro, il libro è un libro che verrà presentato domani dalla società, della associazione fotografi naturalisti italiani, fiumi d'Italia, molto bello un libro fotografico, ma lo vedremo domani. Grazie ancora a Peter. Mi sono dimenticato ovviamente di leggere la motivazione, lo faccio adesso. Un programma di interventi articolato e di lungo periodo per la riqualificazione morfologica di un sistema fluviale significativamente artificializzato, mirato a favorire la riattivazione delle dinamiche fluviali e la riconnessione con le aree ripariali. Rispetto ad altri esempi, il processo decisionale e il coinvolgimento dei portatori di interesse risulta particolarmente sviluppato e ciò si riflette nell'attenzione rivolta al recupero degli usi educativi, ricreativi e fruitivi dell'area fluviale. Questa è la motivazione espressa dalla giuria per essere tra i progetti finalisti. Secondo progetto finalista, interventi di riequilibrio ecomorfologico e miglioramento ambientale nei parchi regionali fluviali dei fiumi Taro e Trebbia. Chiamo a ritirare un progetto promosso e realizzato dal lente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale o come abbiamo preso stamattina anche parchi del Ducato. Chiamo Michele Zanelli, sei in sala, a ritirare il riconoscimento. Michele Zanelli, se vuoi ascoltare con noi le motivazioni. Un progetto che affronta il difficile tema della riqualificazione morfologica finalizzata al recupero della biodiversità ed in particolare di habitat e specie inserite in direttiva habitat e direttiva uccelli, con effetti potenzialmente significativi per la loro conservazione. Persegue l'obiettivo di favorire la riattivazione di forme fluviali in sistemi ad elevata energia e con forte capacità di autoriattivazione delle naturali dinamiche morfologiche e avvia un processo virtuoso di acquisizione di aree da restituire al fiume e dalla laminazione delle acque. Più che avvia mi pare di aver capito che è già avviato da tempo, però continua in questa logica, in quest'ottica e quindi un percorso che forse potremmo vedere sviluppato prossimamente. Grazie ancora. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, vi vedo attrezzati di libri. Facciamo uno scambio non alla pari ma quasi, voi avete un libro, abbiamo uno anche noi, abbiamo fatto questa raccolta di interventi di riqualificazione fluviale in Romagna curati dal nostro servizio, abbiamo raccolto contributi dei tecnici del servizio ma anche di altri tecnici, di altre realtà, di altre università che ha collaborato in vario modo ai monitoraggi degli ambienti che abbiamo ricreato fuori e in distribuzione. Abbiamo visto che già diversi dei tecnici del servizio, io lo offro i nostri tre ospiti della giornata e buona lettura. Grazie per il premio. La motivazione. Un progetto innovativo e di scala ampia, tra i primi in Italia a proporre l'approccio tipico di interventi integrati per la mitigazione del rischio idraulico e di miglioramento dello stato ecologico dei corpi idrici, cercando un compromesso tra i diversi interessi e sovvertendo la logica, tra parentesi un po' ingegneristica, posso con te permettermi, della massimizzazione dei soli obiettivi idraulici. Costituisce un esempio applicativo importante a livello nazionale per le tipologie di corsi d'acqua naturali di pianura e collina con ridotta dinamica morfologica inseriti in contesti atropizzati. Quindi vi sentite, vi riflettete in questo giudizio. Perfettamente. Dopo te lo spiego. Al di là poi di premiare, chiaramente dietro ogni progetto ci sono programmazioni, uffici, dipartimenti, soldi, merito di tutti, è bello anche il rapporto con le persone. Credo che dietro ogni progetto, io li conosco tutti quelli che stiamo premiando e hanno molta passione per il loro lavoro e ci hanno messo molto del loro in tutti questi progetti. Quindi è vero che rappresentano l'ente che stanno facendo il loro lavoro ma lo fanno con passione, le sentono secondo me molto loro anche questi interventi. Allora, vuoi dire tu è il momento per cambiare un po' voce? No, no, non sono agitato, era solo per cambiare voce. Allora, arriviamo al momento del vincitore o dei vincitori. Non chiedetemi cambiare accento come già dicevo ieri, ci ho provato stando dieci anni a Bologna ma questo è il risultato. Allora, abbiamo due progetti che vincono in ex equo la prima edizione del premio miglior progetto di riqualificazione fluviale in Italia. Questo è il verdetto della giuria, progetti molto diversi ma che sono piaciuti da tutti i punti di vista, dall'ampiezza, dalla scala temporale, spaziale, dal modo in cui sono articolati, ben collocati sul territorio, dal fatto di non aver trascurato il monitoraggio pre, post, come dicevamo ieri. Quindi un percorso più che una progettazione e questo credo sia al di là poi della bontà dei singoli interventi tecnici l'aspetto che ha portato a evidenziare questi due progetti rispetto a tutti gli altri. L'ordine è casuale, procedo. Allora, vince il premio italiano per il miglior progetto di riqualificazione fluviale, il consorzio di bonifica acqua e risorgive, con il progetto di riqualificazione ambientale diffusa nel comprensorio di competenza del consorzio di bonifica acqua e risorgive. Chiamo a ritirare il premio Paolo Cornelio, il rappresentante del consorzio. Poi Paolo rimani. Premiamo subito anche gli altri e poi leggiamo entrambe le motivazioni. Il progetto l'abbiamo visto in parte nella presentazione di Paolo di questa mattina. Vince in ex equo con il consorzio di bonifica acqua e risorgive il primo premio italiano per il miglior progetto di riqualificazione, l'Agenzia per la protezione civile della provincia autonoma di Bolzano con il progetto riqualificazione del rio Mareta. Ritira il premio Peter Ecker per la provincia di Bolzano. Siamo molto contenti in realtà di premiare due progetti. è stato il giudizio emerso da chi ha valutato bene e con attenzione gli elaborati presentati, ma davvero per noi, visto lo scopo dell'iniziativa, è importante che due contesti estremamente diversi, cioè il contesto della pianura padano-veneta con corsi d'acqua in prevalenza artificiali gestite da un consorzio di bonifica è un ottimo esempio per questo tipo di situazioni. e in parallelo abbiamo un ottimo progetto invece in ambiente alpino o comunque riciclabile per tutti i progetti con fiumi ad elevata pendenza. Quindi cade davvero bene avere due esempi così buoni in due situazioni così diverse dal punto di vista del contesto complessivo. Le motivazioni, sempre seguendo l'ordine di prima, il progetto del consorzio Acqua e Risorgive è stato premiato con la seguente motivazione. Questo programma di interventi diffusi su scala temporale e spaziale ampia ha saputo coniugare l'obiettivo primario di riduzione del carico di inquinanti afferenti al sistema della laguna in Venezia con quello di ridurre il rischio idraulico in aree di bonifica. Rilevante anche il contributo per gli aspetti concernenti la conservazione di habitat e specie in un contesto fortemente antropizzato. Interventi di rimozione di opere di artificializzazione, ampliamenti golenali, realizzazione di zone umide e di fasce tampone bensì coniugano con l'adozione di approcci più sostenibili per la manutenzione della vegetazione in un quadro organico e coerente. Anche grazie alla buona disponibilità di dati in monitoraggio, il progetto assume un forte valore dimostrativo a scala nazionale per futuri interventi sul reticolo idrico minore e sui comprensori di bonifica. Andate avanti ovviamente, non sentiatevi appagati per il mio. Sì, è una minaccia. Allora, il rio Mareta Dimenticavo di dire può essere evocato seduta a stante Allora, il rio Mareta Questo ambizioso e complesso progetto è concepito nell'ambito di uno studio dell'intero sottobacino, l'Alto Isarco e presenta obiettivi chiari e diversificati che mirano da un lato la riduzione del rischio idraulico ma anche la contestuale riqualificazione morfologica ed ecologica del tratto fluviale di... Allucinante che bisogna fare sta concia Non c'è un microfono Le soluzioni innovative proposte permettono una buona mediazione tra l'obiettivo di riqualificazione ecologica e di vincoli esistenti rispetto alla naturale divagazione dell'alveo Il progetto presenta un programma in monitoraggio chiaro e articolato su vari aspetti anche non consueti ed una buona valorizzazione degli aspetti legati al valore ricreativo ed educativo come abbiamo visto stamattina La premiazione di questo premio finisce qui ma sarà importante poi vedere tra qualche mese i prodotti divulgativi che riusciremo e riuscirete soprattutto a costruire e quindi sarà probabile che alcuni di voi abbiate la possibilità e rivedere la presentazione di questi progetti in altre situazioni Abbiamo ringraziato tutti Laura Rimani te da ringraziare che hai fatto da coordinamento per tutta... per l'organizzazione del premio quindi grazie Bruno Adesso l'auspicio è che ci mettiate nelle condizioni fra tre anni di poter organizzare la seconda edizione con nuovi progetti di riqualificazione in Italia A me tocca l'onore di aver presieduto il comitato di valutazione per assegnare il secondo questa siamo la seconda edizione del premio miglior tesi di laurea magistrale e dottorato Sono arrivate undici candidature da tutta Italia nei diversi ambiti tematici che sono arrivate tesi di ingegneria ovviamente architettura urbanistica, scienze sociali e anche scienze naturali e tra queste undici tesi abbiamo anche noi individuato ex aequo due vincitori che chiama adesso a salire qui sul palco il primo è Fabrizio Malaggi un applauso che ha discusso una tesi, una laurea magistrale in scienze forestali e ambientali presso l'università di Padova dal titolo Pagamenti per servizi ecosistemici dall'atterio alla pratica Miglioramento della cognitività ecologica nel parco regionale Olio Sud il cui tra l'altro contenuto verrà anche poi esposto durante il convegno e poi c'è anche una seconda vincitrice ex aequo che non può essere qui oggi pomeriggio per cui gli consegneremo il premio domani mattino ma intanto comunque l'annunciamo la dottoressa Valeria Paternieri che si è laureata a Parma in scienze e tecnologie per l'ambiente con una tesi di laurea magistrale dal titolo Proposti di gestione multiobiettivo del reticolo dei canali di pianura per valorizzare i servizi ecosistemici il caso del consorzio di bonifica del Navarolo entrambe le tesi di laurea come vedete hanno avuto a che fare con il tema dei servizi ecosistemici e del loro pagamento nel caso proprio della tesi di Malaggi proprio il tema del pagamento e un caso concreto di utilizzo di questo strumento e nel caso della tesi della dottoressa Paternieri hanno utilizzato il metodo dell'analisi dei servizi ecosistemici per definire la modalità ottimale di gestione della vegetazione all'interno dei canali del reticolo di bonifica quindi due tesi che non a caso le due tesi vincitrici hanno un fortissimo risvolto applicativo costruite sul campo e anche questo poi è stato un elemento di rimente nel decidere, nel individuarle come vincitrici grazie e ovviamente ci aspettiamo di rivederti ovviamente ci aspettiamo di rivederti qui con noi alle prossime edizioni e anche nel prosieguo della nostra attività come CIRF siamo sul palco Valeria Paternieri che ieri non abbiamo potuto premiare ricordo premio miglior tesi se vuoi ricordare Giuliano anche il titolo della tesi Valeria Paternieri che si è laureato e ha discusso una tesi di laurea magistrale a Parma alla facoltà di scienze e tecnologie per l'ambiente con la tesi del titolo proposte di gestione multiobiettivo del reticolo dei canali di pianura per valorizzare i servizi ecosistemici il caso dei consorsi bonifica del Navarolo ricordiamo è stato un premio ex-eco con Fabrizio Malaggi su un caso simile di servizi ecosistemici Allora, prima di cominciare con la prossima sessione abbiamo la necessità, il bisogno e l'onore di ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato in questo percorso e nell'organizzazione di questa giornata prima fra tutti insieme a Andrea mi fai compagnia? ok prima fra tutti la regione Emilia Romagna e il consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale chiamerei quindi Alfredo Cagianelli che forse non può esserci Monica Guida anche lei ha avuto un altro impegno e purtroppo un altro impegno diciamo che ha un attimo di difficoltà ad essere presente Giuseppe Mannino Elena Medda della regione Emilia Romagna e Aronne Ruffini del consorzio di bonifica vi ringraziamo per la vostra collaborazione per il vostro supporto per l'organizzazione e ci pregiamo di darvi in dono quello che è il libro Fiumi d'Italia lo avrete visto lo abbiamo dato anche ieri ai vincitori del premio lo avevi puntato è un bellissimo volume con le fotografie dei nostri più bei fiumi d'Italia redatto dall'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani in tarda mattinata vedremo una presentazione fatta direttamente dal presidente Alessandro Magrini vi ringraziamo ancora per tutto il vostro supporto per l'organizzazione e andiamo avanti su questa strada bisogna ringraziare anche e soprattutto chi ha lavorato molto alagramente non voglio dire Marco Monaci Marco Monaci non lo ringrazio però grazie grazie non solo una foto sì dai grazie dobbiamo ringraziare chi ci ha permesso di fare questa cosa avete visto fuori una segreteria ma è stato soltanto l'apice di un percorso lungo molto lungo durato un anno quindi ci teniamo a ringraziare Valentina Preti e Alessia Baiocchi del Consorzio grazie a voi vi siete messe d'accordo però anche io sono verde grazie non grazie e Gianna non abbiamo parole per ringraziarti per il tuo impegno sei il fulcro del circo senza di te da tutti vi siete relazionati con Gianna in questo percorso e Andrea quando Gianna si soffera di noi chiuderà noi avvisiamo grazie Gianna ancora in ultimo ahimè tocca ringraziarlo c'è poco da fare no Marco non lo ringraziamo ringrazio il comitato organizzatore costituito da Giuliano Trentini e Bruno Boz Andrea Goltara Marco Monaci ahimè ma senza regalo però eh ma senza regalo Bruno è timido e non si è fatto vedere Bruno eh Bruno è Bruno è timido non vuole ringraziamenti pubblici allora grazie anche a tutti voi che insomma avete visto l'organizzazione è stata particolarmente complicata però grazie a voi e grazie all'organizzazione mi sembra sia l'interno ma ancora non è finita quindi ragazzi lo facciamo adesso così nel caso qualcosa vada male nelle prossime ore soprattutto domani dopo domani ormai è tardi vai iniziamo allora chiamerei subito iniziamo la nuova sessione monitoraggio grazie a tutti grazie a tutti